Ciao a tutti, io come sempre sono il Baffo Storico e oggi vi porto l'intervista al capitano della compagnia d'arme, la lancia spezzata, Zozo de Gaino, barone del Sacro Romano Impero, e da Madonna Maddalena Taddea della Torre, i quali ci hanno gentilmente ospitato nel loro accampamento, in quel di Casteldelci, per poter essere intervistati veramente su tutto. Inutile che vi dica la competenza, la cultura e soprattutto la simpatia di cui dispongono, lo vedrete già nel video, il quale ho deciso di tagliare il meno possibile, dato gli argomenti estremamente vasti ed interessanti che andremo a trattare nella nostra chiacchierata più che intervista. Ringraziamento doveroso va da parte mia al barone e da Madonna Maddalena, con il quale abbiamo avuto il piacere di parlare anche in seguito, di trascorrere altro tempo insieme e di scoprirci affini su molti argomenti ed interessi. Inoltre lo staff del direttivo vorrebbe accogliere l'occasione per ringraziare gli sponsor della manifestazione, che riuscendo in questa situazione un po' tragica per l'Emilia Romagna, hanno voluto dare uno sforzo per una nuova nascita, per la rievocazione medievale e anche per un paese già duramente colpito da questi incidenti naturali. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito alla nostra chiacchierata. Giorgio Gaino, 65 anni all'anagrafe, 22 di rievocazione, ma posso smettere quando voglio. È tutto sotto controllo. La posso gestire. Ho iniziato nel 92 come figurante nel paglio di Montagnana, poi musici e sbandieratori, la cosa comunque non bastava, ho visto gruppi che facevano questa attività, ho messo su un gruppo di combattimento storico che ho abbandonato qualche anno fa, ho fondato la Lancia Spezzata e ci dedichiamo e al combattimento e invece alle varie didattiche che vedete in giro dal gioco medievale, che comunque è inerente alla figura del soldato, perché puntualmente il soldato si giocava tutto, rimaneva il destino di un cavaliere. L'araldo che cammina nudo non era così infrequente come noi pensiamo, perché al gioco veramente, soprattutto i soldati, si giocavano tutto. Poi didattica sul trucco, sull'igiene, cesteria, adesso non ci sono qua, sulla musica, sulla cucina, varie branche. Chiaro che quello che più mi diverte è, di fatti, l'armatura che stanno spiegando i ragazzi dell'altra compagnia è mia. Ah, è bello. Sì, perché, allora io faccio tutti e due, loro fanno solo il 300, noi invece facciamo 2 e 300, la seconda di, la festa di oggi è duecentesca, quindi siamo in ambito duecentesco. Come è nata la passione? Questa è una bella domanda. Sì. Posso solo dire che studiando la storia a scuola, leggendo le gesta, non tanto degli antichi romani, ma di Dario, Cerse, dei persiani, è scoppiata questa passione per la storia. Sono convinto che la civiltà si sia fermata con l'impero romano, con l'ascissione dell'impero romano. Ah, addirittura prima di... Sì, con l'ascissione è finita la civiltà, da lì è iniziata la Paglio di Siena, guardato sempre con occhi. E appunto, io sono nato a Milano, trasferendomi a Padova e conoscendo il gioco, cioè conoscendo gente che faceva il Paglio, mi sono messo dentro e poi, ripeto, l'escalation fino ad arrivare al combattimento. La cosa che più diverte è comunque la ricerca, la ricerca delle fonti, del prendere il filo e tirare. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta in tutti i campi, cioè perché la dama, perché, da dove arriva la dama? E quindi inizia ad andare indietro e purtroppo inizia a scoprire una caterva di giochi. Là c'è una... là sopra ci sono alcuni giochi fisici, che giocavano i bambini e i grandi, non sto completandoli. La palla, cioè il gioco del calcio, diciamo così. In realtà non è esattamente calcio, si chiamava Arpastrum, era più un rugby, calcio fiorentino. Calcio fiorentino. Calcio fiorentino è l'evoluzione di quest'Arpastrum, che era il calcio che giocavano le legioni romane. Un po' diverso dal calcio che adesso ci pensa. Sì, ma anche l'Arpastrum è diverso dal calcio fiorentino. Perché il calcio, cioè, è vero che non ci sono regole. Nel senso, se tu sei il giocatore più pericoloso della squadra avversaria, è vero, io ti posso, a prescindere dove tu abbia la palla, ti posso buttare giù. Diciamo che l'Arpastrum è più simile al rugby vero e proprio, perché bisogna prendere la palla e portarla nella piazza dell'avversario. Non era esatto, come ho detto prima, non è esatto dire che non c'erano regole, perché era una forma di organizzazione militare. Ripeto, la giocavano le legioni romane, quindi era una sorta di allenamento a determinati movimenti. Poi, se il mio avversario più pericoloso è un guerriero, vado a prendere lui, cerco di mandare qualcuno che mi fermi lui. Giusto. Che influisce anche sul morale della truppa, bloccare il più forte. E poi altri giochi che molti pensano, le bocce, le bocce erano un gioco medievale. Lo giocavano ancora i romani, ma soprattutto nel Medioevo. I due giochi più famosi dopo il calcio in Inghilterra, il cricket e il croquet, sono giochi medievali. Venivano giocati, uno c'era nel cricket c'è la gabbia da abbattere, nel Medioevo c'era la pertica, dovevi colpire la pertica e l'altro con una mazza doveva respingere. Quell'altro invece è un percorso che pare sia stato inventato a Napoli, palla a maglio, e appunto colpendo questa palla gli devi far fare il percorso fino a infilarla nella buca. E lì uno dice, c'è un'altra analogia con un altro sport moderno, del mandare in buca una palla con una mazza. Chissà quale. Ma il basket è una derivazione dell'arpaston, o meglio, è una derivazione del calcio fiorentino, perché il calcio fiorentino bisogna buttarlo nella sacca. Sì. E il basket cos'è? Il basket lo devi buttare. Letteramente è cesto, quindi. Esatto. Sì. Voi siete troppo giovani, non sapete cos'è il badminton? Sì. Detto anche volano. Il volano, sì. Lo giocavano con tanto di pallina piumata, lo giocavano nel medioevo. Tennis. Sì. Lo chiamavano palla bracciale, non avevano la racchetta, davano delle gran botte con il bracciale, ma la rete stesa a un metro di... Poi hanno messo la rete, prima era una corda, poi a furia di litigare, è passata sopra, no è sotto, no è... Hanno messo la rete, così almeno. E allora litighiamo sulle linee. Giusto. Si deve sempre trovare un sistema per... Però medievalmente la parte è così. La racchetta da tennis non è altro che la... Diciamo l'ampliare il guanto, man mano lo facevano sempre più grande, però fino ad arrivare alla racchetta. Alla racchetta. Poi, ripeto, il badminton hanno sta racchetta, giocano tranquillamente. Altri sport... Beh... Gioco da spiaggia per eccellenza, che non è il tamburello o il padel, che... Sì, torniamo al discorso, siete troppo giovani. I piattelli, dischi di gomma che si tira... Ah, ok, sì. Giocavano con le pietre. Ah. Giocavano con le pietre. Ho fatto una fatica a trovare le pietre piatte per giocare con le pietre, però fortunatamente le ho trovate, ho svaliggiato la casa della mia signora. E hai riuscito a... Ma guarda qua... Ti servono? Sì. Basta che non mi... Sì. No, no, tranquillo, prendo solo quelle piatte, le altre le lascio lì. Giusto. Questo è da come è nata la passione per il combattimento, per il medioevo, diciamo. Sì. Anche se personalmente li farei tutti i periodi storici, quindi dalla preistoria alla prima guerra mondiale, ho qualche riserva già sulla seconda perché secondo me c'è troppa gente che ha vissuto quel trauma ancora viva e quindi... Però fino alla prima guerra mondiale lo farei volentieri. Il problema è avere mezzi e avere... avere tempo. Giusto. Cioè, o ne faccio bene uno... Esatto, è inutile aprire le 500 e senza poi... Anche perché poi magari non hai tempo di seguirle tutte, quindi... Già sono incasinato abbastanza appunto a fare queste, figuriamoci, a fare le altre. Diceva che ha fondato la Lancia Spezzata. Sì. È un nome particolare perché, oltre ad essere evocativo, ha anche un senso concreto o sbaglio. Sì. Allora, la Lancia Spezzata, tutto sommato, è nata dieci anni fa perché, in disaccordo con gli altri della mia compagnia, tendenzialmente io farei tutte le uscite, invece i vecchi compagni mi dissero, ma noi avremmo anche una nostra vita da vivere. E quindi quelle, esatto, le uscite che non facevo con loro chiamavo altre compagnie. Ora, Lancia Spezzata era un termine con cui venivano... Ah, premetto, io ho letto queste cose. Sì. Poi, se siano giuste, se chi le ha scritte... Sì, sapesse... Sapesse cosa stava scrivendo, no, no, però le ho trovate scritte su libri e con tanto di bibliografia. Quindi, la Lancia Spezzata... Allora, combattere in Lancia, ci sono molte versioni, però la più applicata sono tre persone, che in realtà combattono in due, Cavaliere e Scudiero. Il terzo è il Paggio che tiene i cavalli, perché sono gente che ha smontato da cavallo. Sì. E quindi combattono, i due combattono spalla a spalla. Nel momento in cui viene a mancare uno dei tre, finisce quel tipo di schieramento e tendenzialmente ti devi allontanare. Sì. O rimanerci o allontanarti. Rientrando nei ranghi, venivano riformati questo trio con altri, diciamo, avanzi di altre lance. Sì, di altre lance. Per cui era una Lancia che si era spezzata, la stai rimettendo insieme per combattere. Giusto. Poi, per ampliare lo spettro, i veneziani danno al termine Lancia spezzata il sinonimo di mercenario. Cioè, i mercenari erano, le compagnie mercenari hanno Lancia spezzata. Ah. E da lì, appunto, siccome partecipavo con altre compagnie che non erano la mia, quindi eravamo messi insieme per l'occasione e basta. E dunque. Quindi è una Lancia spezzata. Giustamente. E' rimasto anche se non facciamo più tanti combattimenti, perché attualmente in Armis sono solo, siamo in quattro. Giusto. Oltretutto, siccome è pesante fare due secoli, ed essendo loro appena, appena, diciamo che sono pochi anni che stanno facendolo, hanno l'attrezzatura per il 300 ma non per il 200. Quindi quello è il motivo, è il significato della Lancia spezzata. Giusto. E' interessantissima come versione. Anche il fatto che molte persone non conoscono il concetto di Lancia. Avevo di solito quando si parla di Lancia, molti pensano al Cavaliere munito di Lancia o al soldato con la Lancia, come se fosse una singola unità. Esatto. No, il termine Lancia, ma anche alcune terminologie moderne, spezzare una Lancia, perché parlando del discorso del Cavaliere, qualche parte, Lancia in resta. E la resta è un gancio che, attaccato alla corazza, dove appoggiavano la Lancia, perché se no tenerla, ed essere precisi, era piuttosto... Nel torneo il Cavaliere, lo scopo del Cavaliere non era abbattere l'altro Cavaliere, era spezzare una Lancia. E ancora adesso quando spezzi una Lancia a favore. Giusto. Perché alla fine contavi quante lance avevi spezzato, e sono molti i termini medievali che poi passeranno, o meglio, più che passeranno alla modernità, rimangono fino alla modernità. Oltretutto, la Lancia, molti, la Lancia, la Lancia, la Lancia, la Lancia non si lancia. La Lancia la tieni, è il giavellotto che lanci la Lancia. Difatti, nello sport c'è il lancio del giavellotto, non il lancio della Lancia. Non della Lancia. Poi, perché il termine di gettare una cosa, prenda il nome di lanciare, questo non lo so, giuro. Sto cercando di capire da dove salti fuori, ma non... Ecco, lanciamo un messaggio, se c'è qualche... Se qualcuno lo sa, esatto. Ce lo faccio sapere nei commenti, così poi saremo sicuri. Sul discorso della Lancia, penso di aver già detto tutto, e arriveranno critiche... Farei tipo la NAI ogni tanto, su YouTube si può essere esperti di qualsiasi cosa, avere anche il Nobel, ma arriverà sempre il commento della persona che sa una pagina in più del libro. Di mio cugino, che ne sa di più. Il mio cugino era uno in Lancia, sapeva... Lui c'era, parte il fatto che, data la veneranda età, molti dei ragazzi dicono, tu non rievoche, tu ricordi. Questo è terribile, però. Vabbè. Vabbè, è esperienza. A parte gli scherzi, sono ridendo e scherzando, è dal 92, quindi sono ormai 30 anni che sono nell'ambito del... Allora, per un paglio rievocazione storica, poi lì bisognerebbe anche mettere i puntini sulle I, molti parlano di rievocazione storica per fatti che non sono mai successi. Allora, c'è un castello, facciamone rievocazione storica. Allora, sicuramente in un castello qualcosa sarà accaduto, ma in realtà la rievocazione storica rievocare vuol dire riportare in vita, riportare alla luce, ricordare. Quindi ci sono, volendo, delle feste bellissime che non sono rievocazione storica, perché i gruppi sono giusti, tutto vestiti giusto, accessori tutto giusto, però non c'è il fatto da portare in vita. Quindi sarebbe più appropriato parlare di festa medievale. Poi ci sono invece delle rievocazioni storiche dove dici, vabbè, vedi le persone e dici, ma adesso non so, probabilmente ti e mi citeranno per plagio, ma come ti vesti? Ti domandi da dove siano uscite. Esatto, parafrasando il buon micio, ma come ti vesti? Esatto, dove l'hai vista quella cosa? E anche per questo, quello che stai indossando lei in questo momento non è preso a caso, c'è uno studio dietro, c'è una cosa che le persone spesso non sanno, magari pensano che si comprano semplicemente degli abiti che ricordano. Il problema è che molti pseudo-revocatori fanno così, cioè, se dai più o meno ci sta, non ci deve stare, o è o non è. Allora, quando abbiamo iniziato noi, veramente, tipo anche il buon Max, quindi stiamo parlando della fine del millennio e i primi anni del 2000, internet, scaricare una foto voleva dire passarci la notte. Perché se lo facevi di giorno, no, no, ti giocavi lo stipendio, costava una lira di Dio. Con internet gratis, con la DSL, con tutta la tecnologia, adesso scarichi tutto quello che vuoi. Si diceva che non, soprattutto in Italia, non abbiamo niente per costruire vestiti storici. Non abbiamo niente? Prova a entrare in una qualsiasi chiesetta, trovi affreschi che ti spiegano tutto, senza contare che ci sono dei libri. Senza contare che abbiamo dei professori che ti spiegano tutto, con i loro libri. Quindi, però, nel 2000 era veramente una cosa allucinante scaricarsi qualcosa, trovare dove andare. Senza contare che, appunto, sì, sai che hai un patrimonio infinito in Italia, però nessuno veniva in mente di dire andiamo lì, andiamo a vederli. Poi, poi, pian piano, man mano che te li trovi, che qualcuno ti dice, o, ripeto, leggendo i libri dei vari professori, tipo Settia, Beltrame, ti dici, ah, cazzo, ma sta chiesa qua, Padova, il Santo, poi dici, cazzo, ma io ce l'ho a neanche 20 minuti di macchina. Vai lì e la fotografi e vedi delle cose. Ecco, esperienza del palio, anche per dire rievocazione fatta bene e fatta male. Il palio è una rievocazione perché ha uno statuto originale del 1356, depositato in cassa di risparmio ancora. Organizzatori, via, giustamente, via tutti gli orecchini, via tutte le collane, via tutte le collane, perché ai tempi non c'erano. Allora, via gli orecchini col medaglione, perché non è medievale, ok, via la catenina col nome sopra, magari. Ma non c'erano gioielli, non c'erano. L'ultima, appunto, non c'erano gli orecchini, a Padova, c'è una signora con gli orecchini, negli affreschi del Santo, c'è una signora con il Beato Belludo, mi pare che si chiami, nella Cappella del Beato, c'è una signora con gli orecchini. Infatti, adesso io non so dove è sparita la mia signora. Era comparsa prima, per un secondo e poi... E questo, ripeto, per me è il divertimento anche di fare questa cosa. E il riuscire ad essere il più vicino possibile a quello che vedi raffigurato, perché chiaramente siamo nel 2023 e dobbiamo basarci e su descrizioni, che molte volte, con lo stesso termine, indicano un'infinità di cose, o ci sono un'infinità di termini per indicarne una. Per esempio, l'imbottitura, il giubbotto imbottito che usavano sotto l'armato, ha svariati nomi, da hackathon al zupon, a giubba imbottita, per cui resti, dici, boh, tante volte ti leggi un nome e dici, questo che cos'è? Poi, quando vai a vedere, la descrizione dici, ah sì, ma questa è lo stesso per i vestiti, eccetera. Il bello è proprio quello, cioè riuscire a prendere la foto, prendere l'immagine che si è presa e dire, eh beh, insomma, dai, siamo quasi uguali. Si potrebbe parlare per settimane, bisogna vedere che cosa... A me piace fare video lunghi, quindi si... Eh, ma poi hai sei guaci su... Non so, aggiungere altre cose su medioevo, vabbè, ci sarebbe da stare a parlare per un'infinità di ore. Se posso, come mai la scelta di aggiungere anche una parte di vita civile insieme alla rievocazione in armi, diciamo, che non è da molti? Ah, perché la rievocazione in armi è bella perché hai la parte, diciamo, ludica. Però molte volte ti accorgi che sei lì, un po' che ciondoli, nel senso, ok, cosa faccio? Uno dice, vabbè, sei lì, ti alleni. Sì, io mi alleno e poi la battaglia non la faccio perché sono morto. Giusto. Quindi o faccio la battaglia o mi alleno. Per cui, ripeto, sei lì che è un po' ciondoli. E allora dici, vabbè, però non... Cioè, non è questa la rievocazione. Cioè, la rievocazione non è arrivo qua, mi cambio, smoccolo perché ho caldo, perché sono un vestito pesante, perché non sono andato al mare con gli amici. Ok, c'è la battaglia. Smoccolo perché mi sto mettendo l'armatura, perché non ce la faccio più. Oddio, sto parlando di me. Ok. No, parte gli scherzi. Stai praticamente mezza giornata ad aspettare la battaglia. È finita la battaglia, ti levi la roba sudata, sì, ci sono i commenti. Non mi bastava più. È anche un motivo per cui sono uscito, anche sbattendo la porta dal gruppo che avevo fondato, perché non bisognerà, secondo me, e secondo qualcuno che è qui anche, bisogna fare il passo in più. La pacca della spalla, quando sei a... Allora, ci sono dei ruoli, dovresti avere dei ruoli. Sì. La rievocazione è anche rispettare quel ruolo. Difatti oggi, quando eravamo a tavola, che ci prendevamo in giro, perché, momento di vanagloria, allora, io sono stato nominato barone da un conte, quindi tecnicamente sono un barone. Cosa manca? Eh, manca la firma dell'imperatore. Sì. Adesso, noi ci stiamo battendo perché tornino. Sì. Però... Se ce n'è uno in ascolto, magari... Si può dare una mano e firmare la... Però, difatti, nelle mail, quando sono, diciamo così, mail ufficiale, io mi firmo, il nome di battaglia, Zorzo, che altro non è che Giorgio, in Veneto, Zorzo. Zorzo. Zorzo da Mediolano, barone del Sacro Romano Impero. E, per il discorso che non ci basta più quello, il fare campeggio, perché a un certo punto tu sei campeggiato qua, ok ragazzi, e ora andate a fare il bagno, ho finito il bagno, torno indietro, ah sì, mi sono divertito, ah che bello, che bella che era l'acqua. Sì. Ah sì, ci siamo picchiati, ah che bella che è stata la battaglia. Andiamo a bere. Beh, quello prima o poi dovrebbe arrivare. Alcuni stanno dicendo, però, sarebbe più giusto rispettare i ruoli, e questo è un grossissimo difetto, secondo me, della revocazione italiana. Cioè, noi abbiamo un sacco di cavalieri, abbiamo un sacco di nobili e non abbiamo servitù. Giustamente nessuno vuole entrare. Nessuno vuole fare la servitù, perché? Perché sentirsi dare un ordine da me, eh, chi sei, cosa vuoi, perché? Abbiamo sempre, ciò non toglie che, finito il momento, torniamo a essere amici come eravamo prima, non è che sarai sempre il mio servo. Quindi, nel momento in cui stiamo giocando, io ho un ruolo, tu, e difatti il ragazzo lì, l'ultima, l'ultima revocazione che abbiamo fatto insieme a Soragna, lui era il maestro di tavola, il maggiordomo. Quindi, lui, e ti diceva cosa c'era, e tu non dovevi rispondergli, dovevi solo con dei cenni, o attirarlo con dei cenni, senza rivolgergli la parola, che è una cosa che sinceramente era la più difficile. Perché una volta che ti dava il piatto, molte volte teneva estentivo gra... E lui mi diceva, no, no, non mi devi ringraziare. E, appunto, ci stavamo prendendo in giro, anche perché era un momento di libertà, però, tante volte, ripeto, scherzando, quando arriva, che mi diceva, eh, ciao, come va? Guardi, ah, mi scusi, barone, è stata la giornata come l'è andata? Ringrazia se ti parlo, oltretutto. Come hai detto prima, c'è gente che è stata passata le armi per molto meno. Esatto, sì, addirittura ha osato toccarmi. Però, adesso, oltretutto, lo spirito era anche proprio quello del gioco. C'è gente che si offende. Poi, vabbè, siamo tutti malati di protagonismo, forse per molti, come risposta alla vita comune, però tutti cavalieri. Sì, molti senza neanche sapere che cos'era il cavaliere, soprattutto che il cavaliere è un'istituzione che non è esattamente due. Sì, venivano ordinati nel 200, più nel 300 che nel 200, però non era così, cioè il cavaliere non era l'ideale perfetto. L'ideale perfetto del cavaliere nasce con il romanticismo. Lì viene disegnato il cavaliere senza macchia, senza paura, difensore degli opi. Il cavaliere era un verme schifoso come tutti gli altri, l'unica cosa è che aveva i soldi e veniva nominato. Fine. E veniva protetto dalla chiesa. E vabbè, qui. Onde evitare scomuniche io. Mi fermerei. Però, giustamente, da barone del Sacro Romano Impero non posso avere una bella idea della chiesa. Non puoi esimersi da... Esatto. Da muovere delle critiche alla chiesa. Però, insomma, sappiamo che la chiesa nel Medioevo ne ha fatta più di Bertoldo. Quindi, non è che sto dicendo cose che poi possano... Però, purtroppo, molti restano ancorati a quest'ideale di un cavaliere. Il cavaliere, sì, doveva servire... E molte volte non lo faceva neanche quello di servire il suo, diciamo, superiore, il suo signore. Perché molte battaglie si dovevano presentare e non compariva nessuno. Poi venivano fuori gli espropi, le punizioni, gli esili, eccetera, eccetera. Ma non era questo personaggio puro... Eroico, come in verità. In carità, c'erano, ma c'erano anche tra i soldati. Come c'è adesso. C'è chi si comporta in una determinata maniera, a prescindere da avere o non avere soldi. Questo, ripeto, è, secondo me, un errore che noi facciamo nella rivocazione. Cioè, avere, sì, tutti un ruolo, però in base anche a... Voglio dire, dopo vent'anni che combattis... Difatti io sono stato... Salute. Sono stato nominato barone per meriti militari. Dopo vent'anni di battaglie... Beh, giustamente, sarebbe... Un po' di carriera l'ho fatta. Cioè, se sono ancora vivo, un po' di carriera l'ho fatta. Poi, che i miei soldati si rivolgano dandomi del tu, o invece si rivolgano come dovrebbe essere... Per me questo è lo step successivo. Dovrebbe essere così. Si sale in livello in alto. Esatto. Nel momento... Allora, c'è la rievocazione. Ok, fino alle dieci, facciamo così. Per le dieci in poi, si beve, si ride, si scherza, non cambia niente. Ma fintanto che, diciamo, c'è pubblico... Secondo lei manca interesse in questo tipo di rievocazione? È un interesse generale? No, è un po' un luogo comune, si tira sempre fuori il discorso Covid, ma c'è voglia di recuperare la vita non vissuta in quei due anni che sono finiti ieri. Non è che stiamo parlando di... Poi, le manifestazioni, come questa, come tutte, le fai nel periodo estivo, se non si si mette... Il maltempo. Con quello che è successo. Poi, la partecipazione a un evento di questo tipo è sempre dura, perché in Italia la rievocazione... Cioè, non vestirsi come siete vestiti voi, è un carnevale. Sono, sì, sono... Ah, ma per certi aspetti anche come ci vestiamo noi è un carnevale, dipende da chi guarda. Sì, d'accordo, però resta sempre il fatto che voi siete sicuramente più normali di noi. Infatti, una domanda che purtroppo fa... Ma non avete caldo con quei vestiti. E ti verrebbe di rispondere, sì, cazzo, c'ho caldo. Lo so, ma se voglio fare una cosa, mi metto così. Che poi, a dirsela tutta, il momento più traumatico è quando ti indossi. Perché poi ti acclimi, perché la nana è isolante, dal caldo e dal freddo. Una volta che ti sei acclimatato, non lo senti più il caldo. Vero è che quando te la levi dici, ah, ma c'è tutta un'altra temperatura. Vabbè, però appunto la gente è tendenzialmente convinta che il nostro sia un carnevale fuori stagione. Per molti noi siamo poco più che pagliacci. Ti vengono a dire, vabbè, ma siamo nel 2023, cosa serve? Proprio perché siamo nel 2023, serve. Allora, diciamo che continuare a dimenticare quello che è passato ci porta a rifare gli stessi errori. E nell'est Europa lo stiamo vedendo. Sì. È una cosa che io non mi sarei mai... Veramente io non mi sarei mai aspettato di vedere cadere il muro di Berlino, di rivedere la spagnola, che io ho sentito sempre nominare da mio padre a quella influenza, che è stata un'epidemia tale e quale al Covid. È nello stesso periodo, tra le altre cose. Ci sarà una coincidenza? Io non credo. Vabbè, anche qua, altra querela, probabilmente. E ormai ne stiamo accumulando chiesa, programmi televisivi. La perdita della memoria, ecco, una cosa che anche penso a volte giochi a nostro favore, è l'essere accomunati a una determinata fazione politica. Cosa che non esiste, qui trovi, di tutti gli schieramenti, di tutti i partiti e andiamo d'accordo. Poi quando ci leviamo la cosa, un po' scherzando, un po' no, ce le tiriamo dietro. Però il gioco è comune, non è l'ideologia, non siamo legati a nessuna ideologia e nessuna confessione religiosa. Poi in Italia la cultura, cioè, è più facile andare a farsi fotografare davanti alla Venere, agli uffizi, perché l'ha fatta la Ferragni, che non andare a vedere il dipinto e studiare e guardarlo. Cioè ti fai il selfie perché l'ha fatto lei, allora lo faccio anch'io. Sì. Non vai lì a vedere tutti i particolari, degli angoli nascosti. Addirittura stavamo guardando un... non eravamo agli uffizi, tra le altre cose. Era un altro museo che adesso non mi ricordo più qual era, iniziano ad essere tanti. E c'era una maddalena piuttosto... non stracciata, però era abiti scuri, cupa, molto, molto grigia anche. Sì. E dice, ma che strano, le tre razze sotto la croce, lei è così. Il motivo c'era. Maddalena era una prostituta. Giusto. Quindi era leggermente diversa dalle altre due pie donne. Sì. E quello l'ha voluto significare. Un'ultima cena, di solito sono tutti schierati. Sì. A Mantova, l'ultima cena, ci sono undici, veramente, dieci apostoli e Gesù, sì, e Gesù di là. Sì. E un apostolo è di qua. Giude è di qua. E da di spalle, oltretutto. Giusto. Ci sono dei significati nei quadri. Bisognerebbe non andare a fotografarsi appunto davanti a un ritratto perché c'è stata la Ferragni e non andare a capire cosa stai guardando. Questo ormai è un... Purtroppo la cultura in Italia è letta così. Poi adesso va di moda a fare la fila davanti a... perché vai a vedere... non vai a capire cosa c'è. Vai a vedere perché gli uffizi ormai sono diventati un museo di moda. Nessuno va a vedere o fa la coda. davanti a San Marco e a Firenze ci sono. Sì. Tutto sommato. Però altri musei che meritano... Vengono... Sono un po' meno pubblicizzati. Poi, e qui gli do un po' ragione, ai vari professori che ci vedono anche loro un po' di malocchio perché abbiamo la velleità di sapere tutto del Medioevo, quando in realtà gli studiosi sono loro. Io resto dell'idea e ci tengo anche a dirlo, non l'ho detto all'inizio ma sottolineo adesso. Io riporto quello che ho capito dai libri che hanno scritto gli altri. Sì. Quindi non sono io che sto insegnando. Io riporto. Non dico di essere un Piero Angela perché... Sì. Anzi. Però, insomma, poi posso anche sbagliare, posso aver anche interpretato male quello che ho letto. E' il rare umano est, dopo tutto. Io sono un umile rievocatore, un umilo servo della storia. Non sono un laureato, un professore che passa la sua vita a studiare determinate cose. Magari leggo, confronto due o tre testi, però sono limitato. Rispetto a loro sono limitato. Non ho accesso a testi che possano innalzare ancora di più, anche perché a quel punto fai l'università e diventi professore. Però, ripeto, la voglia di cimentarsi in tutto quello che è... Non è esatto dire in tutto quello perché, appunto, ognuno ha la sua branca. La sua branca. Cioè io ho i giochi perché è comunque interconnesso con la scommessa. Perché tutti i giochi nel Medioevo erano giochi d'azzardo. Cioè ci si puntava su, ripeto, tutta l'armatura, tutto il soldo. Questo stona un po' con l'immagine del Medioevo, della gente spaventata, timorata di Dio, che non fa altro che preghi. Allora, il gioco, qui vedi delle scacchiere riportate su legno. Giocavano dappertutto. E la Chiesa, in un primo tempo, vieta questo sperpero di denà, quindi vieta il gioco. Non ci riesce. A quel punto dice, vabbè, almeno nelle feste comandate non giocate. Almeno lì. E anche lì non ci riesce. Siccome un vizio era quello di fare le scacchiere anche sui gradini dei sagrati della Chiesa. Perché facevi quattro segni, ripeto, sulla panca è un esempio. Ma ci sono anche dei gradini, delle piazze dove c'erano segnate il tris, per esempio. A quel punto dice, va bene, allora non giocate sul sagrato della Chiesa. E anche lì, cioè, il gioco va avanti, le scommesse vanno avanti. Non riesce a porre freno la Chiesa a questo. E, appunto, c'era gente che andava in rovina col gioco. Perché era giocato da tutti, veramente. Chi, appunto, la faceva la scacchiera sul sagrato, chi invece giocava nella sua casa. Il gioco è dappertutto ed è inerente, appunto, alla vita del militare. Poi c'è il trucco, anche lì nel Medioevo non si truccavano. Non è vero, non si truccavano come noi. Ma il loro trucco della signora che sta di là della macchina è direttamente derivato da questo trucco che è della scuola farmaceutica, della scuola medica sorrentina del 1200. La signora Trotula aveva fatto tutto un trattato per schiarirsi i capelli, per truccarsi la faccia senza scarnificarla come si usava con la biacca, cioè con la calce, come il rossetto, come truccarsi gli occhi, ma tutta in maniera naturale. Era un misto di cosmesi e di sanità al suo trattato. È, è, perché ancora adesso lo trovo in circolazione. La cestaia, non c'è la che... D'accordo che adesso lei ha riempito di ceste tutti i colori, però, giustamente, sta facendo didattica sulle ceste medievali, quindi spiega, deve avere lì qualcosa per... Ci manca quello che è un professore di musica, tra le altre cose, quello che, appunto, ha tutto l'apparato, o meglio, tutti, alcuni strumenti, tutti, è sbagliato, alcuni strumenti musicali del tempo. E cercare di ampliare quello che è la rievocazione, portarla a tutti i livelli della vita, non solo a quello che, ripeto, per me e altri come me, è la parte divertente. A me è sempre piaciuto fare sport, anche se da scarpone di tutti... Sono sempre stato... Ok, ci becchiamo una querella anche da Liga Bue, una vita da mediano, sempre lì nel mezzo, e non so neanche come i reali che poi vince i mondiali, quindi sono rimasto semplicemente sempre nel mezzo, però, insomma, è una cosa che mi diverte. Questa qua era una nuova avventura. A me sono detto, ripeto, se riesco a tirare la tela qua, così ti spiega lei meglio. Io sto per andare sull'altalena perché si è liberata. No, abbiamo bisogno degli orecchini. Beato Belludi, giusto? Nella cappella del Beato Belludi... Ah, sì, Beato Belludi, santo a Padova. Gli orecchini non c'erano. Questa è la riproduzione esatta degli orecchini. Gli orecchini non c'erano. Allora, gli orecchini vengono usati molto poco, risultano comunque delle indicazioni di elenchi dotali, addirittura alla fine del 200, nella zona di Venezia. Questi qua sono i cosiddetti cerchielli. Gli orecchini quindi esistono, vengono utilizzati, ma con parsimonia perché l'orecchino presuppone il buco nell'orecchio e quindi questo, nella mentalità religiosa dell'epoca, andava a rovinare la completezza del corpo umano voluto da Dio. Quindi l'orecchino viene percepito come un di più rispetto alla perfezione del corpo umano. Per questo viene utilizzato poco, ma esistono, sono presenti. L'unico gioiello che compare pochissimo nel Medioevo, soprattutto nel XIV secolo, è il braccialetto. Per un motivo molto semplice, perché gli abiti hanno maniche di una lunghezza che impedisce di fatto la visione del braccialetto. Per cui, rispetto alle armille dei romani, che erano una delle gioielli in assoluto più utilizzate, l'unica area in cui il bracciale rimane è Venezia, perché ci sono gli entregosi, che sono questi bracciali con una catenella finissima, di quello tipo di maglia, che si chiama proprio maglia veneziana, che viene fatta per lunghezze di veramente molti metri, molto sottile, e addirittura la tradizione di famiglia voleva che il bracciale della madre venisse poi diviso con le figlie nel momento in cui andavano spose. Quindi diventava un bene che passava da una generazione all'altra. Su Venezia abbiamo ancora gli bracciali, mentre nel resto d'Italia il bracciale scompare. Questo è un oggetto che compare addirittura in un mosaico dell'VIII secolo, ma si ritrova in una chiesa, negli affressi di una chiesa della fine del Decento, nell'area della Svizzera tedesca. E si chiama Chanta Pleur, detta anche piagnona, e in pratica funziona in questo modo. Una volta provato, quando io l'apro in alto e viene riutilizzata poi per tutto il Medioevo nelle stupe, che sono le cosiddette stufe, dove c'è quest'area di bagni comune. Le stufe vengono chiuse quando la chiesa comincia a considerarli, non tagliando sostanzialmente, dei luoghi di peccato. Perché le donne che lavano questi signori, poi li intrattengono anche diversamente. In un'altra maniera. Esatto. Ma il discorso dell'igiene è assolutamente presente nel Medioevo e addirittura l'igiene diventa un momento anche di correlazione sociale. Il gesto che si fa nei confronti dell'ospite che arriva è di offrirgli il bagno. E soprattutto ad alto livello, quando è necessario creare delle alleanze, prendevano il bagno assieme in questi tini, che venivano tagliati a metà, venivano foderati con la tela di lino per evitare le schegge. e la nudità reciproca non era solo fisica, era anche morale, diciamo. Mi metto in una posizione... Mostrarsi nudi. Siamo come fratelli, per dire. Esatto. Non ho secondi fini. Quindi l'igiene assolutamente, l'igiene in qualsiasi classe sociale, si lavavano tranquillamente anche i poveri. Nella serie nel Medioevo non si lavavano. Sì, anche questo. Cambiava semplicemente il tipo di materiale. e il materiale nel senso che, a seconda della disponibilità economica, uno poteva acquistare beni anche per l'igiene personale di russo o meno. Questi sono i due tipi di sapone che c'erano nel Medioevo. La differenza sostanziale fra uno e l'altro è che questo è il sapone che usavano i contadini, la cui base era uguale a quella del sapone dei nobili, cioè l'iscivia, che è l'acqua di colatura della cenere, e un grasso per renderlo solido. I contadini usavano il grasso animale, per cui la sunia, grasso di maiale, e, credetemi, non ha assolutamente un odore rancido che si può pensare, perché si pensa sempre che il grasso poi irrancidisca, niente di tutto questo. Il sapone, invece, dei nobili, era un sapone sempre costituito da l'iscivia. La prima ricetta di sapone è stata trovata in un cilindro di terracotta in Mesopotamia nel 2800 a.C. Quindi è un prodotto utilizzatissimo, usatissimo in Oriente e in Antichità. I romani si lavano in maniera diversa, si lavano con lo strigile, quindi olio e questa... Ci sono degli strigili perfettamente conservati a Mantua, al Museo archeologico. Lo strigile... Servivano proprio per pulire lo stato superficiale della penna. E spiegati cos'è uno strigile? Ecco, lo strigile era una specie di... non aveva una lama tagliente, ma era un oggetto ricurvo, una lastra ricurva, che aveva il compito di portare con sé lo spoco una volta che veniva passato. Il sapone che usavano i signori, invece, era il sapone che arrivava generalmente dall'Oriente, perché era il sapone da leppo. Se voi ancora adesso andate nell'erboristeria, lo trovate. Ed è sapone fatto con la liscivia e con l'olio essenziale di alloro, che era antisettico, era stringente. Quindi il sapone diventa un momento di igiene, ma anche di cura per il corpo. Il sapone non è comunque solo patrimonio dell'Oriente. Abbiamo anche il sapone, il cosiddetto sapo, che veniva utilizzato dai galli, ma veniva utilizzato più che altro come... noi metteremmo il gel per tenere i capelli a posto. È un tipo di prodotto che comunque fa parte della storia dell'uomo, a seconda dei luoghi viene creato con delle sostanze differenti. E poi abbiamo prodotti che utilizziamo ancora adesso. Questa qui è acqua di rose. L'acqua di rose, che io uso normalmente come tonico, viene indicata come astringente, come antiruga, addirittura da galeno. E la cura delle donne passa dal modo di viverla di una donna, che è Trottola, che è questa medichessa dell'undicesimo secolo, della scuola salernitana, che scrive il Deornato Molierum. Sì, ho detto salentina, salernitana. Deornato Molierum, proprio è dedicato alla bellezza delle donne, come schiarissi i capelli. Le donne si depilavano. D'altronde è la signora l'esperta di... Sì, io... Parliamo di giochi, ma... Le donne si depilavano, ma la domanda era, vestite da capo a piedi, perché depilarsi? Perché anche qua subentra la visione religiosa del corpo dell'uomo. Come viene rappresentato generalmente il diavolo? Con quale animale? Il capro? Il capro, sì. Quindi, meno peliò, meno assomiglia a un capro. Dunque, più vicino a Dio sono. Esatto. Peccato che usassero la calce per depilarsi, e quindi io lo sconsiglio vivamente come metodo, perché ho addirittura il color pimentum, che anche lì è come la ceretta caldo. La stessa identica cosa. C'è già assolutamente la concezione di dare un'immagine del proprio corpo molto precisa e legata. Le donne si truccavano tranquillamente, si truccavano con delle erbe che addirittura usavano la brionia per arrossire le guance, per arrossare le guance e anche le labbra, ma proprio perché è irritante, è fortemente irritante, quindi provocava un rossore. Manca nella cosmesi del Medioevo il concetto di danno a lunga durata. Cioè, è inversamente gestita rispetto a noi. Noi cerchiamo il risultato, ma soprattutto di non danneggiare. Loro cercavano il risultato, punto. Immediato. Esatto. Quindi si sbiancavano la pelle con... Chi bella vuole apparire. Con l'arsenico. Giusto. Con gli arsenicati. Quindi bianchissima. Poi si inducevano una pustola, ma questo è un altro discorso. Era questione di tempo. Sono cose che capitano. Sì, sì, sì. Diciamo che il danno collaterale l'hanno capito un po' tardi. E lo stiamo ancora capendo adesso, quindi... Esatto, esatto. Però ecco, c'era di tutto. Si profumavano, però si profumavano in una maniera differente dalla nostra perché erano oleoliti, era profumo in olio. Ed era monoessenza. Per noi il profumo ha la testa, il cuore, ha la coda. Cioè, ci sono più aromi che si sviluppano con la permanenza del profumo sul corpo. Per loro no, si metteva a bagno nell'olio questa erba, quindi o la lavanda, o il rosvarino, o la menta, qualsiasi profumo che fosse preciso. Profumavano i capelli. Questa qui è una... La polvere che ho fatto io è noce moscata, petali di rosa pressata, c'è anche la cannella e veniva messa in testa. Questa soprattutto nel 300 però, perché il 200 prevedeva il capo delle donne praticamente sempre coperto. La moda cambia radicalmente dopo la metà del 300 e ha archi temporali molto più lunghi dei nostri. Noi abbiamo la collezione primavera-estate, autunno-inverno, loro 50 anni da un cambiamento all'altro. Gli uomini erano felicissimi di questa cosa. Immagino. E tra noi e loro che fanno 300, noi facciamo anche fine 300, vedete proprio che c'è un'impostazione dell'abbigliamento anche soprattutto femminile completamente diversa. Per cui queste ampiezze e anche questo è legato allo status sociale. Più stoffa io impiego, maggiore è la mia disponibilità economica. Per cui più ampia è la catena, c'è la cintura lunga. Cosa serve tutta sta roba qua? Tutto quello che è superfluo è indicatore di benessere economico. Non devo usare i soldi per mangiare, posso spenderli come voglio. E anche questo ti racconta chi sei, e racconta agli altri chi sei, chi ti vede. nel 300 la stessa cosa ma cambia proprio la forma dell'abbigliamento perché diventa tutto molto più adorente, c'è una percezione del corpo e anche un'esibizione del corpo più disinvolta rispetto al 200. L'unica cosa che rimane fondamentale è la presenza del velo del capo coperto. Tutte le donne sposate dovevano avere il velo. Ma questo già a partire dalla fine del 200 perché Latino Malebranca che è legato a Pontificio nel 1278 promulga questa regola secondo cui le donne sposate dovessero avere il capo coperto. A capo scoperto potevano andare solo due categorie di donne o le ragazze molto giovani quindi ancora da maritare e loro potevano mettere fiori freschi in testa o le prostitute. Anzi, obbligatoriamente le prostitute dovevano avere il capo scoperto. Come le prostitute dovevano vestire di giallo perché anche il colore nella mentalità medievale comunica. Quindi chi si vestiva di giallo e di verde i giullari perché erano i colori che nella loro mentalità erano legati alla pazzia. Quindi chi fa qualcosa di così fuori dalle righe si veste con i colori adeguati. Nel XIII secolo ci potevano mettere colori e amavano comunque il colore. Questo discorso del vedere gli abiti lo dice in maniera impeccabile il pastorotti medioevo oscuro esatto lo dice lui in maniera impeccabile non è una questione di colori in sé ma di intensità del colore perché più costoso era il bagno di tintura più pregiato era il colore che ne risultava. quindi ad esempio il nero il il porpora sono colori molto costosi perché hanno una procedura difficile per poter essere ottenuti in maniera brillante quindi è stabile brillante e stabile è stabile sono tutti poveri nel medioevo sono tutti vestiti di marrone non è che si vestissero di marrone o di verdino chiaro avevano abiti più spenti solo per quello perché comunque una tintura casalinga costava meno di i tintori oltretutto sono una categoria rispettatissima hanno dei quartieri dedicati anche perché sono molto inquinanti e quindi il tintore lavora fuori dalle mura della città molto spesso perché finisce con inquinare l'acqua che da quel punto lì in giù non può più essere utilizzata quindi è un lavoro come posso dire ricercato ma disprezzato è un po' un lavoro borderline è un po' come un operaio dell'industria chimica è utile ma si può evitare di vederlo però fanno un lavoro che viene percepito come sporco insomma quello sì assolutamente forse una banalità conclusiva ma anche come se chi guarda questo video volesse contattarvi per avervi una rievocazione o per unirvi ai ai vostri ranghi come come dovrebbe fare allora forse conviene anche perché beh c'è l'indirizzo c'è la mail c'è la pagina facebook che essendo da poco ripeto compagnia c'è da dieci anni ma è da due che sta diciamo sviluppando ma ragazze immagini sono leggermente stagionata me ne rendo conto però questo offre la compagnia quindi purtroppo ci sono altri modi grazie grazie davanti ma comunque così vedono anche ma comunque in ogni caso io lascio tutte le informazioni come sempre nella descrizione del video dunque indirizzi l'indirizzo email il nome e generalmente ogni contatto così che chi volesse anche magari approfondire un ambito specifico come per esempio il gioco o la cura del benessere nel medioevo può tranquillamente contattarvi per finire le curiosità poi la tagli e la metti avete mai sentito parlare di palla velenata si dovinate chi l'ha inventato era un gioco medievale noi abbiamo dei debiti enormi nell'abbigliamento quante volte diciamo no ma guarda questo è un altro paio di maniche arriva direttamente dal medioevo perché nel 200 le maniche sono ancora attaccate a partire dal 14esimo secolo le maniche diventano staccabili dagli abiti vengono legate in alto perché è la prima parte che si consuma del vestito che si sporca facilmente quindi togliere la manica e cambiarla fa diventare un altro paio di maniche la manica diventa anche un oggetto emblematico perché le bandiere che veniamo sulle tende derivano dalla manica che la dama regalava al suo cavaliere quando aveva ottenuto la vittoria in un torneo ed è un gesto simbolico perché donando una manica non avrebbe mai più potuto utilizzare l'altra quindi era un gesto definitivo e lui portava questa manica come trofeo per la vittoria quindi ci sono un sacco di cose di cui siamo abbondantemente debitori a medioevo grazie grazie